Ci siamo completati perché poi aspettiamo sempre simili che mi auguro che possa, parlo davanti, il resto secondo me siamo completi, abbiamo soltanto bisogno come dicevo prima di lavorare una settimana, 15 giorni insieme e non avere questi impegni infrasettimanali che il calendario ci ha segnato e ci mancherebbe altro. Le partite fanno punti e i punti fanno classifica per cui lungi dal pensare, però è chiaro che noi saremo alla quinta partita ma dovremo essere bravi in 14 giorni, dovremo essere bravi a gestire le forze e a fare una grande partita, una grande prestazione a partire dalla gara di domani. Perché poi sulla falsa rica di quello che abbiamo fatto col termo ad esempio, quando fai le prestazioni magari qualche volta ti può capitare di non raccogliere quello che in campo hai seminato, però poi alla lunga le prestazioni ti portano a raccogliere i frutti di ciò che fai.